La linea di comando elettroidraulico modificata. Il comando OneTouch del cambio automatico offre il massimo comfort di guida. Nella posizione D è possibile inserire le marce premendo lievemente il selettore verso sinistra o destra. Se si mantiene premuta la leva del cambio automatico provvedi a scalare marcia una o più volte fino a trovare l'innesto ideale per far rallentare o accelerare al meglio la vettura. La linea di comando l'amore Con le sospensioni pneumatiche a gestione elettronica Airmatic DC, cioè Dual Control, la Maybach raggiunge nuove dimensioni del comfort di marcia. Si tratta di un sistema di sospensioni pneumatiche a gestione elettronica abbinato al sistema di sospensioni attive System. Grazie a questa configurazione, oltre che per la sofisticata struttura degli assali, la Maybach si distingue per l'elevata agilità, per una eccellente dinamica di marcia e una maneggevolezza ottimale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una vettura straordinaria necessita di freni straordinari. Con il doppio sistema SBC, la Maybach dispone di impianti frenanti elettronici con due unità di comando centrale, due accumulatori ad alta pressione, due gruppi idraulici e quindi complessivamente otto circuiti frenanti. Il tutto insieme ai dischi dei freni di grandi dimensioni e una serie di sistemi di regolazione come ESP, ASR e Brake Assist. Tutti questi componenti garantiscono la massima sicurezza possibile. Anche dal punto della sicurezza attiva e passiva, la Maybach garantisce il massimo della tecnologia per la prevenzione dei sinistri e per la massima tutela dei passeggeri in caso di impatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.